27 milioni di euro per la nuova via Don Blasco, il decreto di finanziamento per l'arteria stradale che riqualificherà il lungomare di Maregrosso e che libererà la via Lafarina dal passaggio dei tir finalmente sbloccato. Si può immaginare un futuro diverso per la faccia a mare che corre dalla falcia dello stretto fino al via Legazzi. Il responsabile del procedimento, autore del progetto, Antonio Rizzo spiega quali saranno adesso i tempi tecnici per l'effettiva realizzazione dell'opera. Ieri è stato finalmente firmato, quindi ieri il 30 dicembre è stato firmato il decreto di finanziamento a questo punto serviranno subito le somme per quanto riguarda gli espropri che sono state inserite nel quadro di spendibilità che la Regione ha chiesto per il 2016, 17 e 18. Da quel momento in poi quindi da quando avremo fisicamente i soldi a Messina si potrà procedere con la gara. L'Urega che già ha avuto un primo bando predisposto dall'Ufficio Contratti procederà all'emissione in gazzetta ufficiale della Comunità Europea del bando. Dopo 52 giorni di emissione è fatta la gara, 30 giorni per la gara, poi dal momento di consegna all'impresa che sarà stata individuata per eseguire i lavori passeranno 20 mesi per l'esecuzione reale delle opere. Grazie a tutti.